Il tema della fine dell'arte è stato equivocato in infiniti modi. Hegel, da cui parte questa idea, non parla mai propriamente di fine dell'arte. Dice che entriamo in un'epoca in cui l'arte, la rappresentazione artistica, si fa così complessa e pregna di elementi intellettuali, di elementi teorici, di elementi che riguardano la riflessione. Perde, per così dire, ogni immediatezza. Perde ogni immediatezza, che era propria dell'arte bella, che era propria della nostra idea del bello. Il bello si complica infinitamente, non è più il bello. Infatti anche noi, come diciamo, se uno dice che è bello, è interessante, sembra una battuta, ma invece non è una battuta. L'interesse per la rappresentazione artistica, anche da parte dell'artista, è un interesse che è pieno di elementi intellettuali, di una riflessione, che può essere filosofica, che può essere sociale, che può essere politica, eccetera. Allora, che cosa intende direi? Che quest'arte, così intellettualizzata, così intrinseca, a quel processo tipico della nostra società, che potremmo dire, della nostra civiltà, che potremmo dire di razionalizzazione, eccetera. Quest'arte non solo perde il suo valore cultuale, di culto, perché tutta la nostra tradizione ha collegato fino al 600, i primi 700, sostanzialmente la rappresentazione artistica, una funzione di culto per un lungo periodo. E poi, appunto, è diventata una faccenda privata. Ma privata in questo senso, cioè privata, ma non privata perché è banale, eccetera, eccetera. Tutt'altro, privata perché ha a che fare con la mia riflessione, con la riflessione mia, del mio io, del mio soggetto, che diventa l'elemento fondamentale anche della creazione artistica, la soggettività dell'artista. Non dimentichiamoci che noi abbiamo, 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 sì, qualcuno lo conosciamo, ma, insomma, così, gli artisti delle cattedrali gotiche, delle cattedrali romaniche, cioè, l'autografo è una cosa relativamente recente, no? Nella storia dell'arte complessiva. Allora, cosa si vuol dire? Si vuol dire che la fine dell'arte è la fine di questa rappresentazione artistica, non la fine dell'arte tout court. Ma cosa comporta questo? Comporta che, anche all'interno della rappresentazione artistica, il primato viene sempre più ad essere assunto appunto dagli elementi della riflessione, cioè dal concetto. E allora, se il primato nella stessa rappresentazione artistica è questo, vuol dire che questa epoca è segnata non dall'arte, non può essere caratterizzata dalla rappresentazione artistica, bensì dalla rappresentazione intellettuale, concettuale, dal discorso, quindi, che il primato è diventato di filosofia e di scienza, perché quando Hegel parla di filosofia intende scienza, sapere. Questo è il segno dell'epoca, il primato del sapere. Il primato del sapere rispetto a quella rappresentazione che continua necessariamente ad essere estetica, sensibile, che è proprio dall'arte. L'arte si svolge in quella dimensione, non nella dimensione del concetto, ma nella misura in cui l'arte assume in sé sempre più elementi concettuali, è chiaro che riconosce l'arte stessa il primato del concetto. E quindi la fine dell'arte è la fine di ogni idea, uno, di una astratta autonomia del fare artistico, perché si colloca all'interno di questo processo complessivo di razionalizzazione, secondo, che non può più pretendere dal comprimato, come ancora invece i romantici pretendevano, e contro i romantici polemizza Hegel, in particolare contro l'estetica romantica, che postulava invece il primato dell'arte anche rispetto alla filosofia. Questo significa tecnicamente la fine dell'arte. Nulla di non c'è più arte, non c'è più artista, perché sarebbe una tesseria pensare che Hegel predicasse, postulasse, ossia augurasse che l'arte c'è. No, l'arte continuerà, può continuare in eterno, ma, appunto, non è più possibile che noi, per dire la battuta hegeliana, ci inginocchiamo di fronte a destra. Non ha più... L'arte contemporanea va tutta compresa alla luce di questo discorso, perché non c'è dubbio, uno, che l'arte contemporanea sia un'arte eminentemente intellettuale, sia un'arte pensante come nessun altro in passato, pensante, che cerca, con le sue immagini, di pensare e di dare a pensare. Non soltanto di piacere, ma di dare a pensare. Non soltanto di rappresentare qualcosa, diciamo così, che la preesiste, ma di dare a pensare del nuovo. E questo è tipico, no, di tutti i gesti avanguardistici dell'arte contemporanea. E tutti si riflettono, devono essere proiettati su questo sfondo hegeliano. Nell'arte contemporanea è tutta una risposta, in un modo o nell'altro, alla sfida di Hegel. Come fai tu, arte, a essere necessaria ancora nel mondo dell'intelletto, nel mondo della scienza, nel mondo della tecnica? Come fai a essere ancora necessaria? Mi devi dimostrare di essere necessaria. L'arte deve giustificarsi razionalmente. Perciò diventa sempre più intellettuale. Ogni getto artistico è chiamato a dare di sé una giustificazione, a dare di sé una ragione. È la fine di qualsiasi immediatezza. Ed è tutte le grandi interpreti dell'arte contemporanea si sono mossi in questo contesto e all'interno di queste problematiche. Tutti.